Sappiamo però che gli auguri di Salvini non è che abbiano portato granché bene, ha augurato alla Le Pen la vittoria, poi la Le Pen ha perso, Trump sicuramente non si sente sicuro dopo. Ecco, no, io quello che voglio dirvi a seguito di questo, parlate tanto di abbassare i tattoni, le campagne d'odio, questo vi sembra un'eccezione politica che state facendo a Salvini? Cioè questo aiuta la composizione, la discussione? Facciamoci un esame di coscienza prima di tutto qua. Giusto, però Salvini porta sfiga in notte. No, 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 attenzione. No, 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 perché siete bravi a predicare. A me ne piaccia da bar, ma di televisione, ma di lenti di regolamento. Fatevi prendere un po' la boccata di respiro con la nostra accaldatissima Ludovica Ciriello, perché dopo una settimana molto complicata...